amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish 3 eccoci qua dopo tanto tempo vi diamo finalmente notizie fresche sul big train allora la situazione è la seguente i lavori inizieranno a breve per ripulire dalla frana e per liberare la strada che si è interrotta poco sopra quindi i lavori cominceranno a breve però prima di iniziare i lavori e dobbiamo togliere l'acqua e prima di togliere l'acqua bisogna togliere il pesce quindi amici pescatori se volete aiutarci in qualche modo dobbiamo tirare fuori il pesce ci sono sei quintali e mezzo di pesce tra carpe amur storioni e pesce gatti americani quindi sabato 22 luglio e domenica 23 luglio svuota lago al big 3 ripeto svuota lago al big 3 quindi tutti gli amici che vogliono portarsi a casa carpe amur storioni pesce gatti americani per farci quello che vogliono per mangiarli per metterli nella fontana di casa per metterli nella vasca da bagno per metterli dove dove volete noi sabato 22 e domenica 23 faremo lo svuota lago stiamo tagliando l'erba perché qui è venuto su un erbone assurdo guardate lì c'è il fronte della frana appena avremmo tirato via più pesce possibile cominceremo ad abbassare il lago e lo voteremo completamente cominceremo il lavoro insomma perché qui bisogna cominciare prima o poi quindi amici padellari fatevi avanti qui ci sono sei quintali e mezzo di pesce da portare a casa carpe amur storioni e pesce gatti americani anche di grosse taglia ricordo che abbiamo degli storioni fino a 25 kg abbiamo degli storioni bellissimi enormi delle carpe meravigliose carpe ungheresi dai 3 agli 8 kg pesce gatti americani belli fino a 3 4 kg e amur anche quelle fino a 6 7 8 kg quindi ragazzi noi vi aspettiamo sabato 22 domenica 23 e se qualcuno vuole del pesce mi chiami il numero lo metterò sotto in descrizione mi chiami e ci mettiamo d'accordo per tutte le opzioni quindi svuota lago big 3 imperdibile ragazzi aiutateci perché prima svuotiamo il lago prima iniziano i lavori e prima riapriamo quindi qua è successa l'apocalisse ma noi siamo forti noi siamo spaventosi e come vi avrevo promesso ripartiamo quindi ragazzi adesso tocca a voi venite a svuotarci il lago per favore e portatevi a tutto il pesce portatevelo a casa mettetevelo in frigo mettetevelo in paghella mettetevelo nella vasca da bagno mettetelo dove volete basta che ce lo venite a togliere ragazzi chiamatemi che vi darò tutte le informazioni e poi finalmente inizio nel lavoro ciao a tutti dal big 3 ciao a tutti